Carenza di dosi, di personale sanitario e punti di vaccinazione da rivedere. Tra le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica c'è la somministrazione del siero anti-covid. Se da una parte si attendono nuove disposizioni da parte del governo, dall'altra continua senza sosta il lavoro dell'Asur Area Vasta 1. Oggi pomeriggio i dottori Augusto Oliverani e Marco Monaldi del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato il piano vaccini nell'ambito di Fanocammina. Un progetto nato quattro anni fa insieme al dottor Massimo Agostini che pone particolare attenzione alla prevenzione e alla divulgazione di tematiche inerenti alla salute insieme a medici e professionisti del settore che si mettono a disposizione dei cittadini. Noi stiamo terminando la vaccinazione degli over 80 e però abbiamo già iniziato a chiamare anche alcune classi speciali tra cui gli insegnanti ma è prevista anche la chiamata di altre forze importanti per la vita del nostro paese come le forze dell'ordine e in questa seconda fase inizieremo a chiamare anche i soggetti con patologie. Per quanto riguarda il personale invece l'Asur lavora a pieno regime cercando di suddividere l'impegno dei sanitari tra le vaccinazioni ordinarie e quelle anti-covid. Chiaro che non saremmo sufficienti, non sarebbe sufficiente il nostro apporto per cui stiamo attingendo anche alla collaborazione, l'importante collaborazione che ci viene data da medici che hanno dato la loro adesione anche di specializzanti, io direi, aggiungo a mio avviso anche neolaureati. Il dottor Monaldi ha accolto in maniera favorevole l'accordo con i medici di medicina generale per raggiungere in particolare le persone in difficoltà o i diversamente abili. Si parla anche del coinvolgimento dei pediatri e della categoria degli odontoiatri. L'Asur così spera di arrivare quanto prima alla copertura di almeno 75% della popolazione. E l'immunità di greggio potrà essere raggiunta nel periodo estivo? Mi sembra un po' vicina questa prospettiva. Io sarei in qualche modo già contento riuscissimo a raggiungere entro l'ottunno, entro il periodo successivo all'estate. Poi se dovessimo avere un aumento sia del personale sia dei vaccini e quindi implementare, andare a pieno regime, perché no, magari anche anticipare i tempi sarebbe auspicabile e forse anche possibile.